buonasera e benvenuta a silvia chimienti in diretta sulla cosa è la prima volta che sei sola qui con noi silvia benvenuta allora buonasera a te la nostra cittadina portavoce alla camera dei deputati silvia chimienti mettiamo anche sotto pancia grazie regia per appunto per la scritta oggi parliamo di un argomento molto molto scottante ovvero flussi di denaro tra il vaticano e lo stato italiano cioè fare chiarezza su tutti questi flussi di denaro in entrate in uscita per rendere più trasparenti evitare anche questi fenomeni di riciclaggio te ne sei occupata profondamente insieme anche ad un giornalista ci racconti un po che cosa avete scoperto e da dove è nata soprattutto questa idea sì allora intanto bisogna dire che il 26 di ottobre scorso è uscito un articolo sul fatto quotidiano che parlava di questa questione quindi del fatto che ci sono delle somme di denaro che viaggiano fra Italia e Vaticano e che appunto probabilmente non vengono non tutte perlomeno vengono dichiarate all'agenzia delle dogane italiana quindi noi abbiamo preparato un'interpellanza al ministro dell'economia e appunto abbiamo avuto dei dati sconcertanti in risposta che hanno confermato quelli che erano i sospetti di Marco Lillo e di altri giornalisti del fatto quotidiano in pratica vi spiego la questione molto intricata però cercherò di essere di semplificarla grazie mille che capiamo che sono questioni tecniche quindi è difficile renderle edibili esatto peraltro c'è una doppia normativa c'è la normativa italiana e quella del Vaticano in pratica la normativa italiana dice che se chiunque trasporti del denaro contante fuori dall'Italia deve dichiararlo all'agenzia delle dogane italiana somme superiori parliamo somme superiori ai 10 mila euro e altrimenti viene punito con sanzioni pecuniarie anche molto alte allo stesso tempo queste norme appunto che sono norme anti riciclaggio sono state inasprite nel 2008 e quindi si è detto che tutti i soldi che viaggiano verso l'estero devono essere dichiarati quindi chiaramente anche per quanto riguarda il Vaticano funziona così perché è uno stato estero e allo stesso tempo c'è la norma del Vaticano quindi nel 2011 il Vaticano è un istituito Life che sta per autorità di informazione finanziaria alla quale tutti coloro che risiedono in Vaticano e che decidono di spostare delle somme dal Vaticano in Italia e in altri paesi devono dichiarare appunto devono quindi compilare un modulo con una dichiarazione il loro nome e il motivo per cui queste somme vengono spostate allora il problema qual è? Il problema è che mancano moltissime dichiarazioni all'agenzia delle dogane italiana perché sono state anche quantificate a seguito appunto della mia interpellanza i dati sono questi ve li vado a leggere nel 2011 noi avevamo già i dati dell'AIF che sono stati pubblicati il 22 maggio del 2013 appunto nel primo rapporto annuale sulle attività per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stato appunto reso noto, sono stati resi noti questi numeri nel 2011 ci sono state 658 dichiarazioni in entrata e 1894 in uscita i dati che ci sono stati dati venerdì e che sono quelli invece dell'agenzia delle dogane italiane sono sconcertanti e sono 3 dichiarazioni e dico 3 in entrata e 21 in uscita dunque capite che da un lato abbiamo 658 dall'altro 3, da un lato 1894 dall'altro 21 la stessa cosa si ripete nel 2012 dove abbiamo 598 dichiarazioni in entrata secondo l'AIF e 4 in entrata secondo l'agenzia delle dogane italiane idem per i soldi in uscita, 1782 in uscita, dichiarazioni in uscita e 13 per l'agenzia delle dogane italiane quindi noi abbiamo fatto appunto presente al ministro che questo disallineamento tra le cifre è veramente imbarazzante quindi vanno assolutamente monitorate appunto il sottosegretario diceva anche proprio fisicamente mettendosi appunto alle dogane coloro che trasportano soldi dal Vaticano all'estero ma c'è un'altra cosa importante e cioè che l'AIF è in possesso dei nominativi di queste persone che hanno dichiarato al Vaticano perché altrimenti non avrebbero potuto portare fuori questi soldi fuori dal Vaticano quindi all'AIF hanno dichiarato ma non hanno dichiarato all'agenzia delle dogane italiane e quindi essendo l'AIF in possesso di questi nominativi sarebbe auspicabile che li fornisse all'agenzia delle dogane italiane perché in questo modo si potrebbe chiaramente le indagini su queste persone sarebbero molto facilitate e quindi insomma il nostro è stato un appello addirittura a Papa Francesco perché visto che insomma il suo papato è improntato alla trasparenza, al nuovo corso ecco perché si faccia appunto carico anche di questo e quindi spinga affinché l'AIF fornisca all'agenzia delle dogane italiane i nominativi di questi potenziali evasori certo che la sfida di Papa Francesco nell'andare a mettere le mani in questo forziere del Vaticano che è poi lo IOR ovviamente sarà molto complicato qualcuno dice lo IOR non è una banca commerciale, il Vaticano è uno Stato sovrano ti chiedo questa cosa Silvia, facendo questa interrogazione e cercando di aprire un po' di far luce attraverso questa inchiesta anche in collaborazione con alcuni giornalisti hai trovato delle resistenze, si sono visti degli attriti anche dovuti per esempio ai famosi patti lateranensi che sono di fatto molto permissivi, hanno consentito questo interscambio e forse hanno favorito magari non volendolo così all'inizio però di fatto nella pratica hanno favorito anche queste zone d'ombra guarda in realtà come è stato anche poi scritto nell'articolo di sabato scorso dal Fatto Quotidiano che era dedicato appunto a tutta questa vicenda la mia interpellanza è stata fatta appunto in sottosilenzio nel senso che questo è un argomento molto delicato che attualmente sta vedendo un po' più la luce su diverse testate in questi giorni sono usciti molti articoli però effettivamente è un argomento abbastanza tabù io non ho incontrato resistenze per ora quello che ho fatto chiaramente ci sono delle zone d'ombra come dicevi tu assolutamente che sono impressionanti e sicuramente favorite anche da quelli che sono stati i patti lateranensi e tutta l'evoluzione del rapporto tra Italia i rapporti così storici certo tra Italia e Vaticano tra Italia e Vaticano sicuramente tant'è vero che ecco per dire quanto sarebbe importante che venissero forniti questi nomi appunto all'Italia questa estate è finito in carcere Monsignor Scarano che è un ex banchiere che è diventato sacerdote 27 anni fa e che si è scoperto che stava tentando di portare in Italia appunto 20 milioni di euro dalla Svizzera in Italia e durante queste indagini si è anche scoperto che appunto ha nascosto in Italia delle filiali Unicredit 456 mila euro quindi che sarebbero emersi prima se noi cioè questa cosa che è scaturita si è saputa solo durante questa indagine sicuramente se noi avessimo avuto i nominativi dall'AIF quindi dall'Agenzia dell'Autorità di Informazione Finanziaria Vaticana forse ecco si sarebbe saputo prima mentre appunto è stato un passaggio che è stato scoperto soltanto durante l'indagine riguardante i 20 milioni portati dalla Svizzera in Italia e quindi questo sicuramente ecco noi facciamo appello e crediamo che vadano invertite vada un po' invertito quello che è stato finora il rapporto fra Italia e Vaticano anche per tentare di rimuovere queste zone d'ombra che sicuramente non insomma sono un controsenso anche per coloro che credono, sono credenti e quindi sicuramente hanno una forte esigenza di trasparenza e di moralità non c'è dubbio e di moralità Silvia come ben sai il metodo stesso del Movimento 5 Stelle è quello di basarsi anche su questa intelligenza collettiva noi in chat abbiamo tante persone che sono anche competenti in materia ce n'è uno per esempio Sergio da Ventimiglia che lavora al Tribunale di Sanremo se non sbaglio comunque insomma è un tributarista e conosce molto bene i cavilli, le leggi, la burocrazia ci scrive e ti scrive presentate un'interrogazione affinché la Banca d'Italia inoltre una comunicazione a tutte le banche di comunicare la presunzione di capitali provenienti dal Vaticano e in caso di omissioni sequestro per equivalenza e sanzione di pari importo alla banca io non ho idea di che cosa si tratti perché ho un percorso di studio umanistico ma te la giro pure io no, guarda io sono laureata in lettere antiche ok figurati per cui proprio questo non è il mio pane però in realtà colgo e com'è stato allora? com'è stato a livello di esperienza personale doversi confrontare con questa materia tutto sommato ostica per chi appunto ha questo background a questa origine? non è stato facile perché appunto per me non è un mondo conosciuto quello della finanza perché vengo da studi umanistici e sono una dottoranda in lettere antiche per cui ho insegnato a scuola italiano però ho avuto la fortuna sfortuna di non entrare in commissione istruzione e quindi i primi sei mesi qui in Parlamento li ho fatti in commissione finanze attualmente sono in commissione lavoro per cui mi sto cimentando anche un po' con diversi temi e cerco di fare il possibile per informarmi e per fare al meglio questo lavoro non è semplice come immaginerai chiaramente questo è un argomento molto tecnico per cui noi stavamo appunto adesso stavo parlando con i miei colleghi di finanze per capire quali possono essere i passi successivi a questa interpellanza perché sicuramente va fatto qualcos'altro in questo senso a livello parlamentare qualche altro atto beh allora visto che tra l'altro lui è un nostro interattore fidato della cosa dopo tanti anni non è un troll o qualcun altro cercherò di mettervi in contatto magari ti fornisco la sua email molto volentieri molto volentieri grazie allora quindi Sergio se ti è arrivata questa comunicazione poi dopo rimandaci la tua email ma anche se ce l'abbiamo così poi la forniremo alla nostra portavoce ti scrivono un sacco di commenti sei bravissima complimenti che fortuna vedere la faccia di Silvia finalmente dopo aver visto Buttiglione è una boccata d'aria questi sono anche commenti un po' cattivi però almeno per fortuna stemperiamo anche un po' l'atmosfera perché la giornata è stata veramente molto pesante tutto il giorno molto pesante e gli attacchi anche che avete subito ragazzi sono so che sono bordate e anche con questo viso che vedo mi sembra di una ragazza con una faccia proprio pulita credo che non siano piacevoli stare là dentro in mezzo a questa gente quindi ti mandiamo un abbraccio virtuale grazie mille grazie grazie mille perché so che è abbastanza complicato qualcuno invece fa un commento un po' critico su Papa Francesco credo riferito al fatto che lui sia un gesuita quindi stare attenti perché Papa Francesco sta al Vaticano come Renzi sta al PD finto cambiamento io direi che Silvia non si sta occupando di verificare se è vero questo tentativo anche di ripulizia di immagine da parte di Papa Francesco del suo messaggio nuovo di povertà eccetera si sta semplicemente discutendo dei rapporti che intercorrono tra lo Stato Vaticano che è uno Stato estero e la Repubblica Italiana per vedere appunto se si può essere più trasparenti ed evitare fenomeni di riciclaggio quindi non mi addentrerei a chiedere a Silvia che cosa ne pensi non è questo l'ambito e non è neanche giusto chiedere a lei che cosa ne pensi se ognuno traga le sue conclusioni religiose o morali nel silenzio di casa sì esatto il punto appunto non credo sia questo ecco sono d'accordo con te ognuno ha la sua opinione personale su insomma su Papa Francesco su come è impostato i primi mesi di pontificato quindi su questo non certo senz'altro comunque che se ne dica quanto sia la vostra fede religiosa non è importante in questo caso credo che il messaggio di rinnovamento per quanto poi per adesso sia molto superficiale solo appunto un po' di immagine è un bene che insomma per la chiesa ma anche per l'aria l'atmosfera che si respira in questo momento in cui stiamo parlando con Silvia in tutta Italia ci sono delle manifestazioni che purtroppo sono anche sfociate in atti di violenza che noi ovviamente condanniamo come Movimento 5 Stelle ma come cittadini italiani non è il caso di stare a parlare di campane o di bandiere però ecco è una situazione talmente grave che sicuramente mandare dei messaggi di sobrietà fa bene alla temperatura sociale cosa purtroppo che abbiamo visto non succede in Parlamento questo è la verità Silvia adesso dopo questo lavoro che cosa vi aspettate che succeda quali saranno i prossimi passaggi e come si concluderà pensi questa interrogazione questa vicenda questa inchiesta che avete portato avanti guarda non ti so dire nel senso che in questi giorni veramente stanno uscendo molti articoli quindi c'è molta attenzione su questa vicenda per cui io mi auguro che qualcosa si muova noi continueremo comunque a monitorare e sicuramente procederemo insomma per quello che possiamo fare qui al Parlamento con qualche altro atto che impegni il governo a monitorare anche esso sulla vicenda io appunto mi auguro che questo nuovo corso perché in effetti appunto tornando a Papa Francesco perlomeno i segnali del cambiamento li ha dati dunque potrebbe sicuramente avrebbe il potere di fare un'azione di spingere ecco nel senso della trasparenza anche nei confronti di queste vicende che riguardano appunto i flussi di denaro quindi ci aspettiamo speriamo che le cose vadano per il meglio ecco senza altro ne abbiamo un gran bisogno e speriamo appunto di riuscire a fare della trasparenza dentro le istituzioni e quindi anche nei rapporti che le nostre istituzioni hanno con gli altri stati il prossimo minimo denominatore comune non dovrebbe neanche essere una dovrebbe essere appunto la normalità purtroppo ma sappiamo che in questo momento voi state conducendo e noi da qua fuori che cerchiamo di aiutarvi e di sostenervi una duplice battaglia di cambiare nella pratica le istituzioni e la modalità immorale qualcosa di assolutamente invece positivo ma dall'altro canto anche cercare di modificare la cultura di questo paese che purtroppo è un cambiamento che avverrà nei prossimi vent'anni non certo in sei o otto mesi questo è un po' sicuramente il problema Silvia ti ringraziamo molto allora non ci sono altre domande specifiche fra poco tra l'altro appunto ci colleghiamo col Senato quindi non vorrei neanche sovrapporci a quello che ci hai appena detto e tagliarti all'improvviso per sentire il discorso di Paola Taverna ti ringraziamo buon lavoro a te e alla tua commissione e ai tuoi colleghi ci sentiamo presto anche magari per ulteriori aggiornamenti su questa questione grazie a Silvia grazie a tutti